Anche quest'anno protezione civile, cartoceto, esercitazione, scuole coinvolte è un bel momento sociale e anche utile? È molto utile, è la conclusione come ogni anno del progetto scuola multimediale di protezione civile che appunto il gruppo comunale porta avanti in collaborazione con l'amministrazione e con l'istituto comprensivo Marco Polo. Ci sono già stati diversi incontri direttamente con le classi coinvolte, le classi terze e quarte delle scuole primarie di cartoceto con l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali. Quest'anno argomento trattato, ovviamente per tutti quelli che sono gli aspetti potenzialmente coinvolti e interessati, l'incendio boschivo, che sicuramente soprattutto in vista della prossima stagione estiva potrebbe essere un problema che si presenta. Ovviamente rivolgendoci a quelle che sono le classi terze e quarte della scuola primaria, trattasi di un'attività di sensibilizzazione, di educazione, che appunto termina con questa mattinata in cui tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e interessati in caso di emergenza rappresentano uno dei punti e dei presidi che poi avranno modo i ragazzi direttamente di frequentare e ai quali i ragazzi potranno direttamente rivolgersi e la mattinata invece con il coinvolgimento di tutte le classi invece delle scuole primarie vedrà svolgersi una esercitazione appunto di tutti i soggetti interessati in caso di incendio, un incendio ovviamente simulato, ci sarà chi come il gruppo comunale di protezione civile di Colli al Metauro farà da vedette e quindi avvisterà l'incendio, ci sarà poi il centro marchigiano antincendio che provvederà allo spegnimento dell'incendio in corso, verrà coinvolta la croce rossa per il soccorso dei primi feriti e da quest'anno c'è anche la straordinaria partecipazione dell'Aeroclub Fano che attraverso il volo a bassa quota di due aeroplani appunto ha contribuito all'avvistamento e poi ovviamente al contatto per emergenza di tutti i soggetti coinvolti che dicevo prima compreso anche l'associazione CB Matei di Fano che invece esperto in comunicazioni e in telecomunicazioni in caso di emergenza appunto ha attivato il contatto con tutti i soggetti preposti e coinvolti in caso di emergenza.